Bentornata Fere, hai visto cosa abbiamo? Grazie Steph, sono passati due secondi, però siamo ancora... Lo so, però, hai visto cosa abbiamo? Sì, non vedo l'ora di vederlo Steph, andiamo! Lo so, lo so, sai che ha il pilota automatico? Davvero? Cioè quindi tu ti siedi, tenete tranquillo e vada solo Sì, sì, quando tu vieni dall'altra parte della mappa lo lasci lì, lui va tranquillo ed è una figata In realtà, 3, 2, 1 Allora, aspetta, mi sto emozionando E ragazzi, come va? Io sono Fere Niki E sono Steph, che si giocava GTA V E benvenuti in un nuovissimo episodio dell'aggiornamento di GTA V Già, siamo subito qua Sopra l'Avenger, perché si chiama davvero Avenger Io ci tenevo a far notare il nome perché è già una garanzia Allora, qui ho messo un pochettino di cose per le varie armi Sì Ma non è così banale, cara Ok Perché hanno aggiunto delle nuove army Ti ricordi le armi nuove che avevano messo con l'aggiornamento del bunker? Sì, sì, certo che mi ricordo Ecco, teoricamente ne hanno aggiunto di nuove Lo modifichiamo o prima... No dai, prima lo modifichiamo, poi andiamo a provarlo Allora Armature 100% E va bene E sembra giusto Classico Bombe Esplosive Incendiarie A gas A grappolo E qua è difficile Eh, non lo so Sono quelle scelte sempre difficili Perché Una nube di gas È carino Le incendiarie io le adoro Le incendiarie sono le più divertenti Però dai, andiamo di grappolo Le proviamo e poi decideremo Motore Mettiamo il migliore che ci dà a disposizione Manovrabilità mettiamo da gara Ok Ok Livrea Adesso qua ci si diverte un po' a farlo figo Ah, bello Le vedo anch'io qua che cambiano Questa è molto carina Sì, molto bella Però anche questa No, questa, questa Vedi questa Sì, sì, sì Perfetto Ok, possiamo aggiungere una torretta anche dietro Lo facciamo più che volete Ah no, aspetta Ma o mettiamo l'anteriore o la posteriore Vabbè, mettiamo... Ah no, anteriore e posteriore È molto brutta Ma non è vero, è bellissima Sì, ma cioè è in una posizione in cui non dovrebbe stare Capisci? Eh, lo so Secondo me Tico veniva a mettere l'anteriore A far finta di nulla Che non abbiano messo quella cosa orribile Guarda Posso fare l'aereo dorato? Ti piace? Sì, ci sta Però ho già preso in giro questo aereo Quindi sono già abbastanza arrabbiato No, ho preso in giro la torretta che esce dal di dietro dell'aereo, Stef Non sono stata a inventarlo Ed è giusto ridere perché l'abbiamo pensato tutti Silenzio, per favore Io non l'ho pensato proprio a niente e a nessuno No, l'abbiamo pensato tutti Allora Ti direi, prova il pilota automatico Sì, però prima sto... Non schiantarti però, eh Sto provando la manovrabilità E ti stai per schiantare? È terribile È proprio... Di quelle robe terribili Ma abbiamo quella roba che se premi H cambiano le eliche? Prova? No, 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 no Forse era G, qualcosa del genere No, 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 era H, era H E questo non lo fa Va bene Ok, lo possiamo accettare Però Diceva Premi E per aprire il vano delle bombe L'ho aperto? Sì, aspetta Stanno cambiando le cose delle eliche Vedi che adesso è tutto dritto Allora Premi spazio per sganciare una bomba Tieni premuto Spazio Per effettuare un bombardamento a tappeto Sei pronta? Vai Guarda Ok, 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 ok Bum, 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 bum Sì, sì E questa roba è già più cattiva Ok Però Vediamo sto pilota automatico Certo Allora Servizi Avenger Dovrebbe essere qua Suota, suota, suota E... Attiva Attiva la metà volta per accedere al pilota automatico Che cos'è Fere? Cosa vuol dire VTOL VTOL Cosa sarebbe VTOL Scusatemi Non lo so Guarda se c'è qualche modalità attivabile Quindi che poi ti permette di attivare anche quello Stef Allora se usciamo da dove si guida Ci dice che dobbiamo rientrare qui Per poter attivare il pilota automatico Quando siamo qui Non ci dà nessun tasto per attivare quel VTOL Quindi non ho idea di come si mette Lo cercheremo e poi lo faremo Io direi per l'ora di lasciar stare Pazienza Allora Abbiamo capito cos'è pazienza L'Avenger mi ha particolarmente deluso Devo dirtelo Dici Quando si guiderà da solo magari lo riapprezzerò Deluxo o Stromberg? Dillo tu Deluxo vai Ok Quella che costa di più Fere Va sul sicuro Allora 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 Oh mamma mia Quanti garage hai? Eh non importa Fere Non importa Non importa Grazie per aver scelto Sì grazie a voi Allora Se questo Airettino qua Ci ha deluso un pochettino Anche perché di vedere aerei dopo Sì solo aerei Eh sì esatto Ne avevo anche poca voglia Ne avevo poca voglia Però se questo qua Ci ha un po' deluso Adesso dovremmo provare un veicolo Che non credo che ci potrà deludere Te lo dico Credo che sia Completamente impossibile Fere A vederla così Diciamocelo Esatto Non sembra niente di che Detto chiare tondo Sì È brutta Sembra un'auto normale Niente di troppo speciale No no è pure brutta Allora come si aprono gli sportelli Almeno è bello eh Hai capito A cosa assomiglia No io non ho capito niente Alla ruina rassomiglia No alla macchina di ritorno del futuro Ah Vabbè io stavo pensando Alle macchine di GTA Bene Non hai altre macchine vai Fata Sì Tre due uno Allora Aspetta Mi sto emozionando Sai che cosa sembra? Che siamo i protagonisti Di quei film trash In cui i veicoli Fanno tutte cose strane Ci manca solo Che diventi un Transformers In questo momento Capisci Steph Però è bellissimo Quindi non è un insulto Ma è un pregio Perché è bellissima Questa cosa La nostra macchina Sta fluttuando in aria Sì Noi stiamo andando in giro Con una macchina Che fluttuo in aria Fede Allora devi andare in acqua E voglio vederla Capito Che va Aspetta Non rasoterra Sul pelo dell'acqua Se io faccio così Voliamo Voliamo pure Ma Ma vabbè Adesso è Harry Potter Altro che andare a cercare Gli UFO su GTA Ti vedrai Siamo noi Con i veicoli Che volano Ma che UFO Faccio un baffo Agli UFO ormai Oh mio dio È diventato assurdo GTA È diventato un qualcosa di spaziale Doveva essere Il gioco un po' realistico Sulla malavita di Los Santos Invece è diventato Un gioco spaziale Steph Anche perché ti vorrei Far notare una cosa Che questo è il veicolo Senza averlo neanche Minimamente modificato E certo Pensa quando poi L'andiamo a modificare Esatto Oh mamma mia Che emozioni Che spettacolo Che spettacolo Poi si guida Che è una meraviglia E si vede Che è bella Si guida davvero Che è una meraviglia Poi se premi così Non so bene perché Impenna così tanto Verso il basso Però È carino Guarda Uuuuh Discesa rapida E poi però Non ti schianti Perché effettivamente È brutta Ma stiamo scherzando Ecco era quello che volevo Stiamo scherzando Nei film Quando le macchine volano Lo fanno sempre Quindi mi sembrava doveroso Doverlo fare anche noi Steph Mi sembra giusto Si ma c'è il rispetto A una barca Siamo 72 volte più veloci Poi Si si Oh mamma mia Oh mamma mia Io non ho parole Non so descrivere Quello che sto vedendo Steph A me viene solo da ridere Selezioniamo la deluxe Selezioniamo Ah posso posizionarla Dove voglio Mi vedi pure Steph Ciao Guarda Fere Opla Opla E le macchine scompagliono Ma questa è una magia Steph Come mai avrei fatto Ti doveva modificare Nella Avenger Fere Allora Armature Prendiamo il solito 60% E fin lì va bene Potenziamo i freni Potenziamo il motore Questa volta Li posso potenziare di poco Bisogna essere alti di livello Marmita Prendiamo questo vale Mi piace molto A livello estetico Paraurti Vediamo un po' Allora quello base A me non piace Devo essere sincero A me piace anche quello base Ti dico la verità Perfetto Griglie che cosa intende? Ah possiamo modificare anche quello? Molto carino Frontali, posteriori e laterali Di che colore? Eh qualche blu Per ora mettiamo blu Poi vediamo Perché voglio prima modificare I colori del resto Qua abbiamo sempre tutto Target ci interessa ben poco Allora Non ci sono del Ah ecco le armi Finestrini Facciamo giusto al volo Super mega oscurati Perché è giusto così Ruote le vediamo dopo Armi Missili E mitra Vai Ok molto 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 classico Turbo Turbo personalizzato Ok Trasmissioni Mettiamo le trasmissioni sportiva Eccola qua Guarda se ti piace Secondo me è uscita bene Aspetta fammi tornare più E non ho neanche modificato Tutto 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 Quindi la possiamo rendere Ancora più figa Secondo me è uscita bene Allora a questo punto Ci sta dai ci sta Io voglio andare a riprovare Il jetpack Perché avevamo aggiunto il turbo E le armi Poi riproviamo quella Perché voglio vedere Anche lì le armi La macchina Ma la posso prendere io? Prova Così usciamo insieme Le facciamo vedere Ti fa salire? No No Seleziona che io posso salire Te la posso rubare Cioè praticamente uno sta così Preme E partono missili Ecco È ridicolo Adesso Se io premo shift Perché lo shift non va? Stefanotto si prepara a partire Verso la luna E tre E due E uno Visto da sotto È stato ancora più bello Di come l'hai visto Tu te lo dico È stato ancora più bello Aspetta fammelo vedere Perché lo voglio vedere È un accidenti di razzo E te l'ho detto Per quello ho fatto Tutta la partenza Allora vai Sali sopra e fammi vedere Tre Due Uno Via E ti lancio pure i flare Per festeggiare Eh beh Ci mancava solo quello Stavo guardando anche io il tuo schermo Sai che secondo me non aggancia No Niente Niente Vero? Mi sa che è fatto prevalentemente Per combattere veicoli aerei Molto probabilmente Perché sembra che non agganci nulla Che possa stare a terra C'è neanche il tuo veicolo Quindi sì Probabilmente sono i veicoli aerei Ma c'eravolo un tentativo anche io Giusto per vedere Allora Non ti fidi di me Steph No vabbè Voglio controllare Non ti fida Non l'ho detto Perché pensa che sia scarse Che non riesca a agganciare le cose No no ho detto Nulla di simile Quello Steph L'hanno capito tutti Che volevi dire quello Fere non è vero Molto offesa No Fere Nessuno ha detto qualcosa di simile Nessuno lo direbbe mai Sappiamo tutti quanto sei brava Quando si ha a che fare con dei missili Quindi Nessuno ha detto che si scarsa Vado in città Vedo dove ci sono un sacco di auto E vedo se così me le prende Altrimenti vuol dire Che è fatta apposta Per combattere Eventualmente degli aerei Che ti rompono le scatole Mentre stai volando E quindi perderebbe un po' di voti Diciamocelo Vero? Non so Perché comunque Anche l'auto L'auto mi sembra Che possa colpire Qualsiasi cosa di fronte a te E lo so però questo Guardate Sì ma adesso sarebbe troppo forte Sto mirando i veicoli E non prende il bersaglio Vediamo adesso quelli non guidati Come va Però Beh quelli non guidati Cioè se io adesso E a sparare il colpo Magari colpiamo qualcuno Eh dovresti capito Ma con che fatica Cioè non sarebbe di sicuro comodo Ho fatto pure arrabbiare qualcuno Scusate Ma mi stanno sparando Chi ti sta sparando? Che ne so Beh frialzati e vattene Perché fare? Dai ti prego Vai via dal Sono molto comodo Secondo te fa lo shift? Mettila Fare È stato bellissimo Ammett È stato bellissimo Basta Steph Basta Steph numero uno Chiudi il gioco E smettila per oggi Ok? Beh ragazzi Nel c'è di sito T'è Dici un like È stata la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare Lì non iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima C'è di sito T'è 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 Grazie a tutti.